Visite mediche e screening gratuiti, accessibili senza prenotazione, in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, con lo slogan Regaliamo salute e non mimose, l'ASL Roma 3 ha organizzato presso la Casa della Salute di Ostia la terza edizione dell'iniziativa La Cura come Maternage. Siamo grandi sostenitori di queste giornate, chiamiamole di Open Day, perché consentiamo anche a persone che magari per ragioni di impegni professionali o familiari non sono nelle condizioni di poter prenotare o magari rispettare l'appuntamento che hanno ottenuto. La Cura come Maternage, in una giornata come la giornata internazionale della donna, vuole essere una testimonianza di come prendersi in carico a 360 gradi della salute e del benessere femminile. In questa giornata, che ha riscosso un successo enorme, abbiamo avuto una partecipazione decisamente importante con numeri significativi, devo dire che è stato ed è un esempio di come possiamo, diciamo così, metterci a servizio della comunità consentendo un accesso agevolato senza nessun tipo di prenotazione. Abbiamo fatto prestazioni di vario tipo, ci siamo occupati di screening di cervice uterina, consulenze psicologiche, ci siamo occupati di vaccinazioni HPV, ci siamo occupati di screening del colon retto. Quindi lo ritengo un grande successo e penso che iniziative come queste vadano ripetute assolutamente. Anche in questa occasione l'Asl Roma 3 ha potuto contare sulla disponibilità offerta dall'AS Roma, che ha inserito l'evento nel calendario di iniziative dal titolo Amami e Basta, promosse in tutta la città per coinvolgere i cittadini in progetti di prevenzione.